La criminalità in Abruzzo ha fatto un salto di qualità, non più solo singoli episodi, reti di spaccio e micro furti. Oggi, nella nostra regione, la presenza delle mafie è conclamata, ce lo dice la cronaca, ce lo dicono le numerose inchieste che hanno portato importanti arresti nelle ultime settimane. La denuncia di Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che mette in evidenza come la criminalità organizzata investe i proventi del traffico di droga in attività commerciali e infiltrandosi nel tessuto economico. Parla di Pescara come crocevia e punta il dito sulla politica, rea di restare in silenzio. Le ultime inchieste delle direzioni distrettuali antimafia ci presentano un'escalecio, un'impennata pazzesca dei tentacoli delle mafie, soprattutto dell'Andrangheta, nella nostra regione. Addirittura le ultime inchieste ci raccontano come esponenti di spicco della mala locale e gestiscono veri e propri depositi per lo smistamento, lo stoccaggio e per rifornire le piazze di spaccio non solo della regione Abruzzo, ma anche di altre regioni italiane, con enormi quantitativi di droga che transitano nella nostra regione. Ci sono dei veri e propri, le ultime inchieste ci raccontano, dei veri e propri faccendieri, dei boss delle mafie che operano stabilmente nel territorio abruzzese. E questo comporta che i grandi proventi illeciti vengano reinvestiti in quella che apparentemente può sembrare un'economia legale, noti bar, ristoranti, esercizi commerciali, prosegue pettinari. Questo è il vero omicidio del tessuto economico sano della nostra terra perché qui si verifica poi la concorrenza sleale. Noi vediamo sempre più spesso che negozi storici di gente onesta chiudono i battenti e aprono bar lussuosi, ristoranti russuosi, grosse catene commerciali russuosi, molto spesso vuoti. E quindi quello molto probabilmente anche lì si deve verificare, controllare perché ci può essere presenza di grossi proventi illeciti che drogano la nostra economia. Poi ringrazia le forze dell'ordine e la magistratura, invece va all'attacco della politica. Io sento un silenzio assordante della politica, c'è bisogno che la politica faccia antimafia e anticorruzione militante. Per la politica si fa sentire vicino ai cittadini per dare forza e coraggio ai cittadini per denunciare, perché qui la ricetta è denunciare, denunciare, denunciare.